Stardew Valley è il gioco che si avvicina di più ad Animal Crossing, o meglio, lo supera. Ad essere sincera, seppur questo gioco assomiglia ad Animal Crossing ed è addirittura meglio, tutte le volte che ho iniziato a giocare, dopo un po' l'ho droppato, perché avevo la sensazione di non capirci nulla. E oggi, visto che ci ho giocato per mesi, infatti ho rinicominciato una nuova partita, anche se non vedete tutta la cosa dell'intro perché sono passati dieci giorni, però siamo realmente all'inizio, ho capito come giocare e approfondire bene questo gioco. Quindi sono qui per proporvi un nuovo video che potrebbe diventare una serie, se vi piace, dove andiamo a giocare bene a Stardew Valley, perché non è così semplice come sembra. Prima di tutto, la cosa fondamentale che si va su Stardew Valley, ma su tutti i giochi simili, è guadagnare soldi. Dobbiamo cercare di massimizzare i guadagni al giorno, per poter guadagnare di più, sbloccare risorse, eccetera. Questo è una cosa, cioè, ovviamente scontata, in questa tipologia di giochi. Ora, io è da un po' che non gioco da PC e non mi ricordo i tasti. Lo trovate, ovviamente, anche su Nintendo Switch. Una cosa importante che non fa quasi nessuno su Stardew Valley è guardare la tv. Dobbiamo sempre guardare le previsioni del meteo, perché dobbiamo sapere se piove. Importante sapere questa cosa, perché ci servirà per i raccolti. E ovviamente la nostra fortuna. La nostra fortuna ci aiuterà a capire quando andare in miniera, in modo tale da non sprecare dei giorni o comunque energia, eccetera. Se siamo fortunati, potremmo trovare più minerali e quindi fare più soldi. Vi raccomando, guardate. Innanzitutto, per quanto riguarda il meteo, domani sarà una bellissima giornata di sole, quindi ovviamente non pioverà. Per quanto riguarda la nostra fortuna, mi viene da togliere la tv ogni volta, ovvero l'oroscopo, benvenuti all'oracolo di Well Week. L'unico show dove la voce degli spiriti è incanerata direttamente a voi. Oggi gli spiriti sono un po' seccati. La fortuna non sarà dalla vostra, quindi direi di evitare la miniera. Cioè, proprio, non la calcoliamo proprio. E quindi ci dedichiamo un po' a raccolto. Cosa devi fare su Stardio Valley? Attenzione, c'è... non mi ricordo i nomi... non me li ricordo. Marine, che se non mi sbaglio è la moglie del sindaco, che ci porta un cane. Questo succede quasi subito all'inizio del gioco. E lo dovete scegliere, ovviamente, quando andate a fare la scheda del personaggio. Vedi questo cane? E beh, sì, mica so cieca. L'ho trovato fermo all'entrata della tua fattoria. Mi sa che è un randaggio. Povero piccolo. Questo posto sembra piacergli. Non pensi che in questa fattoria un buon cane farebbe comodo? Vabbè, me lo prendo, perché fai nulla d'otti. E ovviamente il mio cane si chiamerà Fuffi. Ovviamente ho la possibilità anche di moddare Stardio Valley, però se questo video vi piace e volete altri video, magari ci pensano su di farvi vedere qualcosa con le mod. Perché con le mod si possono fare veramente tantissime cose, tipo aggiungere i personaggi di Animal Crossing o i Pokémon, eccetera. Quindi posso assicurarvi che con le mod questo gioco diventa ancora molto, molto più bello. Va bene, fai il bravo cagnolino. Adesso, ciao. Ok, la signora se ne va, ci ha lasciato il cane. Che, vabbè, sarà messo qui in alto. E andiamo a vedere la posta. Perché non si... Ah, scusate, io non ricordo i tasti. Allora, clicchiamo. Vedo che hai esplorato la vecchia miniera. Hai uno spirito avventuroso. Avventuroso si vede subito. Se riesci a fare fuori... C'è 10 melme, sì, 100. Me ne andavo, quittavo di nuovo questo gioco. Ti guadagnerai un posto della mia gilda. Ok, abbiamo un obiettivo, ovvero quello di fare 10 melme. Ma oggi noi non andremo in miniera. Quindi cerchiamo di massimizzare i guadagni. Prima di tutto andiamo a raccogliere tutto quello che c'è da raccogliere. Non vi fate ingannare dalla grafica. Comunque non è la prima volta che porto Stardio Valley sul canale. Però, davvero, se volete giocare a questo gioco, dovete approfondire i primi giorni perché all'inizio può non piacervi. Ma vi assicuro che alla lunga diventa molto molto interessante. Soprattutto quando imparate le meccaniche iniziali. Una cosa molto importante. Fate attenzione alle stagioni. Perché come su Animal Crossing, in questo gioco, dobbiamo raccogliere ovviamente le risorse e anche i pesci della stagione. Perché se andiamo nel nostro inventario, cliccando su collezioni, andiamo a vedere, diciamo, la nostra lista di oggetti sbloccati. Possiamo vedere le coltivazioni, possiamo vedere i pesci. Una cosa fondamentale, ma se avete giocato ad Animal Crossing, lo sapete perché funziona comunque così, sempre, in qualsiasi gioco è così che funziona. nella stagione in cui vi trovate, potete sbloccare un determinato numero di pesci. E ovviamente alcuni pesci si sbloccano anche o solo di sera, o solo di giorno, eccetera. Quindi è importante raccogliere tutti i pesci di quella stagione, perché poi non potrete più raccoglierli. Quindi vi raccomando, bisogna anche pensare a queste cose. Ad esempio qua c'è l'anguilla, che se non mi sbaglio si trova solo di sera. Comunque, adesso ci arriviamo. Una cosa che volevo fare, ad esempio oggi, è creare altre casse, perché ci serviranno veramente tantissimi bauli per togliere tutta la roba che non ci serve. Quindi andiamo a prendere un po' di legno. Possiamo anche rompere qualche albero, oppure prendere la legna a terra. Questo è indifferente. Tanto la legna è una cosa che si trova veramente facilmente. Dobbiamo solo stare attenti alla barra dell'energia, perché soprattutto all'inizio, si consuma veramente, veramente facilmente. Per raccogliere 50 di legna, mi è costata mezza barra dell'energia. Incredibile. Comunque, togliamo un attimo queste erbacce, che non ci servono. E posizioniamo il baule qua. Lo metto qua vicino, in modo tale da poterlo prendere sempre. Ok, all'interno del baule, vado a togliere tutto quello che non mi serve. Ad esempio, i 18 di legna, in questo momento, lo posso anche togliere. La pastinaca, io potrei mangiarla per recuperare energia, ma potrei anche venderla, perché comunque ci servono soldi per poter comprare altri semi. È combattuta come cosa, però decido di vendere, perché mi servono soldi. Ho annaffiato tutto, e adesso andiamo in città. È importante parlare con gli abitanti, perché su questo gioco ci sono anche le relazioni che possiamo monitorare dalla casella relazioni. Qui, ad esempio, vediamo se abbiamo fatto dei regali, vediamo il livello di cuori che abbiamo con un abitante, e non è facile salire di relazione con gli abitanti. Quindi non trascurateli e cercate sempre di fare due regali al giorno, ovviamente se potete. All'inizio non è facile, perché le risorse sono molto poche. Cercate di raccogliere tutto quello che trovate in giro, soprattutto nelle spazzature, perché nelle spazzature degli abitanti si trova veramente di tutto. Quindi è importantissima questa cosa. Sono già le due del pomeriggio, cioè il tempo scorre veramente... Cioè, appena chiudete gli occhi è già sera. Allora, andiamo a dare un'occhiata nelle spazzature, anche perché abbiamo poca energia e quindi non possiamo spenderla per fare chissà che cosa, altrimenti finisce la nostra giornata. Qua non c'era niente, idemo qui. A volte possiamo trovare anche degli artefatti se siamo fortunati, quindi dobbiamo sperare in qualcosa del genere, così che possiamo donarli al museo. Allora, vado a comprare dei semi di pastinaca. No, è chiuso il mercoledì, mannaggia. Ma sta moda di prendersi i giorni liberi di mercoledì, ma chi ve lo dice? I negozi di semi devono essere sempre aperti. Comunque, andiamo a dare un'occhiata in giro e oggi abbiamo guadagnato 487. Comunque, oggi andremo in miniera e vediamo se riusciamo a fare la cosa delle dieci melme, però prima volevo comprare dei semini. Apre alle 9. Mamma mia, ragazzi, che stress. Giustamente questi aprono pure alle 9. Io mi sveglio alle 6 del mattino perché così dovrei avere più tempo. In realtà, non ho mai tempo in questo gioco e quindi non facciamo niente. Ci serve anche del rame. Allora, lì c'è una melma e la andiamo subito ad affrontare. e questa è... Oh, e muori. E questa è una. Conviene sempre non restare troppo a fare una singola cosa perché dobbiamo sempre cercare di fare soldi tutti i giorni. Comunque, ho sconfitto le dieci melme e quindi posso entrare nella gilda. Ok, Robin mi propone un'offerta che se gli porto 75 pietre e 1000 di oro, che non sono mica pochi, fidatevi, all'inizio non sono pochi, ci farà costruire un pozzo. Grazie, molto gentile. Però abbiamo un'altra lettera. Nella piazza del paese si darà il festival delle uova. Dovresti arrivare tra le 9 e le 2 del pomeriggio se vuoi partecipare. Non vorrai perderti la caccia all'uovo annuale. Va bene, quindi ricordiamoci che domani abbiamo anche la caccia all'uovo. Qua possiamo raccogliere le nostre patate. Oggi, per quanto riguarda il raccolto, non ci va mica male perché abbiamo un pochino di roba da vendere. Quindi, cavolo verde, patate e questa. Ovviamente vendiamo anche questo perché ragazzi, i tulipani, sta roba, serve tutto per fare soldi. Quindi eventualmente potete conservarne qualcuno da regalare se volete conquistare qualcuno. Se no vendete tutto perché i soldi qua momentaneamente ci servono. Più avanti sarà molto, molto più semplice dopo aver fatto soldi, però per adesso. Vediamo se troviamo carbone. Il carbone comunque si trova rompendo le pietre. Ecco, un pezzo di carbone trovato. Rompi, tieni. Il costo è di 25, ma non ho trovato niente. Che è sta roba? L'argilla, dai, che schifo. Ci ho impizzato 25 per niente. Controlliamo sempre la spazzatura. Tre pezzi di carbone, buono. Proviamo un po' a raccogliere la roba dalla spiaggia. se magari facciamo qualche soldino in più oggi. E proviamo anche a pescare, solo che ho l'inventario pieno. Un consiglio, soprattutto all'inizio, che non avete sbloccato queste due, diciamo, colonne, tipo gli attrezzi che non vi servono, cosa che ad esempio io non ho fatto, lasciateli nei bauli, perché se no davvero non potete fare niente, raga. Sicuramente appena avrò i soldi, la prima cosa che faccio è ampliare l'inventario, però abbiamo veramente tante cose da fare, tipo costruire il ponte, c'è veramente tanta tanta roba. Allora, facciamo una cosa, l'argilla la buttiamo, così ho uno spazio libero, e ci prendiamo un pesce, in modo tale da salire anche di livello per quanto riguarda la pesca, perché più attività facciamo, più il nostro livello aumenta nelle attività. Vediamo se riusciamo a pescare un pesce. È difficile la pesca, io in questo gioco non l'amo particolarmente, sono sincera. Tra l'altro è la nostra giornata fortunata, quindi potrebbe andarci bene. Vedete, io non amo particolarmente questo metodo, cioè, è veramente non complicato, però fastidioso, perché comunque ci sono dei pesci che si muovono molto di più, e considerate che stiamo avendo difficoltà con questo, che teoricamente dovrebbe essere semplice. Cioè, due ore, l'ho preso, almeno l'abbiamo preso. Quando vedete questi vermetti qua, ovviamente ricordatevi di farli con la zappa, perché vi danno qualcosa di interessante, cioè potreste trovare anche magari spazzature, eccetera, però in questo caso abbiamo trovato un libro perduto. Allora, uno più per l'annaffiatoio e uno più per la zappa. Abbiamo sbloccato il recinto di pietra, macchina per la maionese, e l'irrigatore, che secondo me può essere molto comodo, perché è veramente brutto annaffiare così. Comunque, oggi i guadagni sono molto alti, perché abbiamo fatto mille e tre con il cavolfiore, però dodici giorni sono tanti, raga. Ok, sono le nove e è iniziato il festival delle uova. Allora, il nostro primo festival, vediamo un po'. Attenzione, hanno fatto le cose in grande, uova, perché è Pasqua, io pensavo tipo era qualche festival delle galline, però ho trovato l'ultimo tizio che mi mancava, maledetto, schifoso, Sebastia, dove cappero abitavi, Sebastia, che mi sono girata tutte le case. Allora, non mi fa vedere l'inventario, eccetera, perché non mi fa vedere l'inventario? Perché non posso regalare, posso solo parlare. Cosa vendono al negozio? Vediamo. Fenicottero dal giardino, coniglio di peluche, semi di fragole, maturano, piantali in primavera, e quanto dura la stagione? E non lo vedo. Ma scusa, non posso vedere manco l'orario. Oddio, i semi di fragole li vorrei comprare, secondo me le fragole. Pensi che ormai siamo tutti pronti per la caccia all'uovo? Sì, partiamo. Forza, sindaco, che dobbiamo fare? Sono curiosa. È il momento del pezzo forte della festa di oggi, l'annuale caccia all'uovo primaverile. Calmi, bimbi, vi servirà tutta la vostra energia se sperate di trovare più uova degli altri e portarvi a casa il premio esclusivo. Uh, premio esclusivo, ragazzi, diventa interessante. Dunque, tutti pronti? Sì, però, un tutorial. Che la caccia all'uovo abbia inizio. Ah, così proprio? Aspetta, aspetta, qua c'è un uovo. Ok. Sono tipo nascosti, ok. Controllo la spazzatura? Non si può... Ecco, uova, uova, due. Voglio il premio speciale. Divento competitiva quando ci sono queste cose. Ma questo è proprio cieco. Bro, non hai visti tre. Mi sei passato vicino. Allora, qua non c'è nulla. Allora, ok, uno dietro la casa. Sì, però basta cliccarlo. Ti levi! Ecco, da dove passo? Comunque, qua, nella macchina. Sì, ok. Cinque. Dai, nessuno non ha preso più di me, raga. Non li prendevano. Nessuno non ha preso più di me. Vediamo. Chi ha vinto? Dai, di Lightning. Ho vinto io. No! Ha vinto sta infame. Quante uova ha preso? Dimmelo. Dai, voglio vedere il premio. Ma non mi ha detto quante uova ha preso. Dai, io non ho preso cinque. Secondo me erano tante. Maledetta. Va bene, dite che possiamo concludere qui questo video. Fatemi sapere se vi incuriosisce vedere questo gioco in maniera più approfondita perché veramente siamo solo all'inizio ed è niente rispetto a tutto quello che potremmo fare più avanti c'erano tantissimi quest tantissime cose da sbloccare ed è veramente infinito come gioco e quindi dipende solo da voi. Io come al solito vi chiedo mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.